Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi non mi voglio dilungare troppo, abbiamo un allenamento in cui in un primo momento tentiamo, diciamo, ovviamente un riscaldamento col dritto generico, top di dritto, vi faccio vedere un po' come lo tiro. Oltre questo abbiamo spostamenti laterali, se normali, classici, quindi un rovescio, un dritto, insomma spostamenti un po' su tutto il tavolo. E più avanti difesa tagliata, sia con puntini lunghi sul rovescio e invece gomma liscia sul dritto. Questa volta gioco con il mio allenatore, tra l'altro, ci vuole anche chi ti segue e ti vede di fronte, ovviamente è fondamentale avere qualcuno che ti dica sempre, insomma, dove stai sbagliando, cosa fai, come migliorare, allenatore fondamentale secondo me in questo sport, soprattutto che è molto tecnico. Quindi oltre questo poi taglio da lontano e anche flip di rovescio e poi a seguire, diciamo, come risposta al servizio flip di rovescio e poi a seguire un po' anche schemi liberi in generale un po' su tutto il tavolo. Questo è quanto, quindi vi lascio al video e vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i vari video. Quindi buona visione! Grazie a tutti! 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 ! 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